Oggi preparo un piatto che faceva mia nonna, un cornile di stock alla marsigliese. Per quattro persone, 750 grammi di cornile di stock con la sua pelle. Questo era il segreto di mia nonna, due filettini di acciuga, due cucchiai di olive di gaeta, un cucchiaio di capperi risalati, del peperoncino piccante, tre spicchi d'aglio, dei gambi di prezzemolo tagliati, un cucchiaio di prezzemolo tritato, della farina 00 per infarinare il corniello, 600 grammi di pomodoro san marzano, a cui già abbiamo tolto la buccia, almeno sei cucchiai di olio d'oliva extravergine. Come prima operazione, asciugate ben bene i pezzi di culiniello, così. Passatevi nella farina, deve rimanere soltanto un velo di farina, quindi scuotete ben bene. Proseguite alla stessa maniera per tutti i pezzi di culiniello. La pronuncia corretta non è culiniello, come dico continuamente, ma è culiniello e stock. La farina è importante, ora, secondo mia nonna, serviva proprio ad aiutare anche a fare una sorta di crema insieme al pomodoro. Quindi, ugoroniel viene bello morbido, morbido. Ecco, ugoroniel è pronto per essere impacchettato, per essere sigillato nell'olio. In una padella grande e capace mettete il fondo d'olio e quindi, sempre a freddo, sia l'aglio che i pezzi di peperoncino. Iniziate a riscaldare l'olio. Quando l'olio è sufficientemente caldo, iniziate a mettere ugoroniel dal lato della pelle che va proprio sull'olio. La stessa operazione la facciamo anche dall'altro lato. Fate questa operazione per non far attaccare sul fondo, per lasciare tutto morbido. Questa operazione di sigillatura la facciamo durare circa 4-5 minuti, non di più. Ecco, ugoroniel è ormai sigillato. Togliete la pentola dal fuoco. Prendete ugoroniel e mettetelo alla parte. Nell'olio e quindi nel fondo di cottura che è rimasto, mettete i capperi, le olive di greta, i filetti di acciuga e poi i gambi di prezzemolo. A tocchetti, rimettete la padella sul fuoco. Lasciate sul fuoco in questo modo finché le acciughe, i due filettini di acciughe, si saranno completamente dispatte. A questo punto i filetti di pomodoro. Il pomodoro è stato completamente filettato. Qualcuno aggiunge, pure di pensiero, anche un cucchiaio di concentrato. Lasciamo che questo sugo cuocia per almeno una decina di minuti. Per la salatura, appena un po' di sale sul nostro currinillo e poi un po' di sale e anche il sugo di pomodoro. Non tanto perché c'è già l'oliva, c'è già il cappero, c'è anche già l'acciughe. Il sugo è pronto quasi. Ecco, c'è ancora un po', bisogna ancora tirare un po', però dobbiamo ancora mettere dentro il nostro currinillo. In questa fase tenete la fiamma al minimo e irrorate continuamente il vostro currinillo, i vostri pezzi di currinillo col sugo. Diciamo che siamo già a buon punto e che fra poco potremo anche servirlo. Ecco, sono passati 5 minuti dall'ultima volta, vi accorgerete che il currinillo è cotto perché vedete come fa, tende praticamente a sfaldarsi, a scagliere. Questi asciutti sono una delizia. Un altro po', ma proprio un altro po'. Poi parlavo prima di quella cremina, questa cremina qua, in parte è dovuta al pomodoro, che è bello cremoso, ma in parte anche a quel velo di farina che abbiamo messo all'inizio. Ne si ti dare il currinillo. Ecco, è pronto? Il nostro currinillo. Una spruzzata di prezzemolo fresco. Spegniamo la fiamma. E tutti a tavola. E buon appetito! Grazie a tutti.